Buongiorno Rabba Sono i nostri desideri che vengono corrotti, per cominciare, dal peccato dell'albero, cioè dalla frammentazione dei vasi, prima ancora di questo, per cui noi non possiamo proteggere quei desideri, proprio ora, così che essi sono ancora un tipo di… esistono qualche forma intorno a noi. Le più vicine a noi, che vogliono arrivare e essere molto vicine a noi, essi, sia che entrano in Kedusha o rimangono nelle scorse, così le Kripot sono quei desideri nostri che ancora non abbiamo corretto. Tel Aviv 4 Buongiorno, amici, grazie, Rabba. Rabba, non è chiaro che cos'è l'importanza del lavoro degli inferiori verso il superiore e quindi è felice di condividere questo aggiungere al lavoro. Rabba, felice con your share significa che è uno stato che è segno di uno stato inferiore che è corretto, è uno stato corretto.